Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sedicesimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nazalock. Ragazzi nello scorso episodio passando per le fogne siamo arrivati alla Torre di Giada per avvisare l'Augur che il culto del cielo sta per attaccarlo. Ragazzi abbiamo perso esattamente due Pokémon all'interno della Torre praticamente appena entrati dopo due allenatori e adesso ragazzi proseguiamo. Sì quella di era la stanza di prima mi sono portato un attimo avanti. Il team ora ragazzi è composto da altri due membri ossia Max e Sandra, Camerapt e Kingdra. Ora Kingdra ha dei problemi a livello di natura e a livello di EVS perché ha poco attacco speciale e ha solo mosse speciali come potete vedere. Però ragazzi comunque vedremo di farcelo bastare al primo momento. Ho voluto sostituire Gudra che era di tipo Drago con un altro Drago. Detto ciò vi invito come solito a lasciare un bel mi piace e proviamo a raggiungerne 200 per questo episodio visto che li superiamo sempre. Mi raccomando ragazzi continuate a sostenere questa serie. Noi direi che possiamo proseguire e io sinceramente non so quanto minchia sia grande questa Torre. Cioè nel senso è grande, è piccola, che 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 è? Allora, ok, questo qua è un PC, che cosa sei? Oh sei un PC, ok perfetto, non mi servi però io esulto lo stesso. Sì e voi siete, ah ecco raga. Leggete il nome, riflettete. Ora lasciate dislike. Possiamo proseguire, non possiamo proseguire perché deve arrivare Damien figlio di puttana. Tutto bene Creepy? Sei pronto? Dobbiamo avvertire l'Augur che il culto del cielo è sulla, sta arrivando. Ehm, altrimenti probabilmente potrebbero costringere, scoperto raga che Blackmail vuol dire tipo costringerlo, una roba del genere. Potrebbero costringerlo a richiamare, a risuscitare Raiquaza. Ok, perfetto. Ehm, tutto è pronto di sopra. Noi possiamo, bene bene. Ehm, mi puzza sta cosa. Non dir, ok vabbè. Ehm, ehm, che cos'è? Non so che cazzo voglio dire sta frase raga, non ne ho idea. Questi sono Damien e Creepy da Telnor Town. È fantastico rivedervi di nuovo. Ma devo chiedervi, perché siete qui? È per l'affrontare la palestra? Se è così, siete fortunati. A est di qui c'è la nostra palestra a tema cielo? Ok. Ehm, e c'è le, nei tipi drago, nei tipi volante. Dovrei dargli un tono figo io, tipo. No signore, noi siamo qui perché, perché abbiamo sentito dei membri del culto del cielo parlare. Vogliono risuscitare Rai Quaza. Sammon è tipo, richiamare, evocare, 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 non mi veniva. Vogliono evocare Rai Quaza e il loro obiettivo è quello di costringerti ad aiutare. Ad aiutarli. Questo è davvero un serio problema. Siete sicuri di quello che avete sentito? Siete sicuri che le vostre orecchie abbiano detto, abbiano ascoltato correttamente? Se è così, certamente questo è un problema. Out of all times to come, of course they would pick now. Speravo che questo non fosse succedere, non dovesse succedere, ma quello che è fatto è fatto. Venite fuori, signori. Porco diaz, lo sapevo. Me lo sentivo. Me lo sentivo quando l'ho sentito parlare, lo sapevo, cazzo. L'abbiamo preso in culo anche a sto giro. Eh? Ma che devono sta succedendo? Mi dispiace Damian, mi dispiace davvero tanto, tua madre puttana. Non posso aiutare, non posso essere aiutato in questo momento. Hai sentito quello che i cultisti... It can't be helped. Non so cosa voglio, cioè, non so a chi si riferisca. Hai sentito i miei cultisti dire... Ok, perfetto, non posso lasciarvi andare con la speranza di collegare i punti. Tu, i tuoi cultisti... Ma che cosa vuoi dire? Vuole dire che c'è la mamma bigola. I am the leader of the sky cult. Tua madre is a grand puttana. Surprised you shouldn't be. Non dovresti essere sorpreso. Pensandoci in realtà è ovvio. Ho creato il culto del cielo alcuni anni fa, appena prima che l'Augur scomparisse. Eravamo un piccolo gruppo all'inizio. Una banda di... A ragtag, che non so cosa sia, tipo una banda di scagnozzi, che erano uniti da un unico desiderio per un'unica cosa. Cambiamento. Vedi, l'Augur era il perfetto eroe per il popolo. Insieme al suo partner, Rupa, ha sconfitto culto dopo culto, provando a riportare buoni valori all'interno di Torren, come la pace, l'amore e la misericordia. Essere misericordiosi... No, essendo misericordiosi, si è dimenticato di tutti coloro che lo avevano tradito. Una roba del genere, sì. Permettendo ai criminali di andarsene impuniti. Come risultato, i membri se ne sono... I membri dei culti disciolti, disciolti è tipo le soluzioni, che è quella merda lì di chimica, come potete vedere. Sto studiando, però non è questo il caso. Tutti i culti sciolti hanno unito altri, insomma, rendendo la sua azione completamente inutile. L'aguro era forte, ma era un codardo. Non era capace di fare ciò che era necessario per tenere al sicuro la regione. Quindi l'ho... I dealt with him, ok? L'ho mandato a fanculo. E mi sono incoronato come suo success... Come... Come suo successore. Devo bere, raga, perché altrimenti schiatto. We have a new auguro. Non ce la farai mai, perché io berrò l'acqua della vita. Ma Damian, io ce l'ho già fatta. Con una piccola propria ganda. Sono già ottenuto... Sono... Con una grande fuga ganda, sono deciso a tenere tutta la sola andava alla mia parte. E se non so parlare, questo è un problema, perché non posso fare i commentari se non so parlare. Ecco perché non posso permettere che voi due conosciate la mia vera identità. In realtà nessuno probabilmente vi crederebbe. Ma è un rischio che non posso prendere. Oddio, piange, no, stellina, vai a fanculo, va. Fino a qua io per salvarti e tu vieni qua e mi dici che sei il capo di quelli da cui ti volevo salvare. Effettivamente non ci avevo mai pensato. Però so, auguro qua è un po' un figlio di puttana, quindi magari l'idea non era così pessima. Voglio catturare Rayquaza. Con la sua incredibile forza e il controllo sopra il cielo sarò onnipresente, onnisciente e onnipotente. Posso creare un'utopia, un mondo libero da guerra e dal crimine. Mi rifiuto di essere il codardo che era il primo Augur. Ogni criminale, ogni affronto al perfetto mondo deve essere rimosso. Ho fondato il culto del cielo per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo. E ora abbiamo accumulato tutto ciò di cui avevamo bisogno per evocare Rayquaza. Il sacrificio può iniziare. Rayquaza verrà evocato e lui sarà mio. This soon to be peaceful region, questa quasi regione pacifica cadrà sotto il mio comando. East, che suppongo sia East, cioè lui, il signore platinato. Prendi uno dei miei cultisti, è il momento di iniziare. Signore, so che avevamo pianificato il sacrificio con uno di loro, ma siccome questi ragazzini sono qui e siccome passerebbero comunque la loro vita in prigione tutto il tempo, sì ma tua sorella, io non mi sacrifico per evocarti il cazzo di pisello verde, voglio dire. Cioè, anche no. Non è una pessima idea East. E dopo che Creepy ha fatto a me... Che cazzo t'ho fatto io? Oddio. Oddio. Ok. Ho collegato i punti. Noi ragazzi eravamo... Ci siamo svegliati all'inizio del gioco, spero di essere dritto tra l'altro in facecam. Ci siamo svegliati all'inizio del gioco che eravamo inconsci praticamente. Non si sapeva da dove venivamo, siamo scappati dal culto di Darkrai. E... E abbiamo fatto evidentemente qualcosa a questo Augur. Ma ha provato a salvare la tua vita? Siamo diventati... Ti abbiamo avvertito del culto del cielo? E... Ottimo punto. Sarebbe ipocrita sacrificarvi dopo che avete... Dopo aver parlato di un'utopia, non è vero? Creepy, in spirito di giustizia, ti do la possibilità di una battaglia. Ehm... Affronterai East e il perdente verrà utilizzato per il rituale. Ma signore, perché stai rischiando me? Perché non utilizzare una delle reclute? Perché East, tu sei il capopalestra. Sono sicuro che vincerai. Creepy non ha alcuna possibilità... Ma va, fanculo, ti faccio vedere io. A parte che se l'Axaray si gira magari riesco anche ad affrontare questa battaglia. Ok raga, però evidentemente abbiamo... Abbiamo dissato in qualche video... A parte che c'hai PG, cioè c'hai PG se hai capopalestra. Evidentemente abbiamo dissato un po' troppo l'Augur e adesso ce l'ha un po' con noi. Spiace, inferno, ipok, calma. Eh, effettivamente dovrei concentrarmi un attimo. Allora, inferno, ipok. Sandra con Brine, giusto? Perché no raga, why not? Allora, Brine, punishment. Che cazzo è punishment? Non mi ricordo, punizione. Avrebbe senso del resto. Un altro Brine... Ok, perfetto. E siamo a due. Perfetto. Per ora il tuo capopalestra andò a culo a fare il sacrificio pure dei Maya proprio. Bello questo. Cazzo sei forte, zio. Veramente, mi stupisce ogni giorno di più. Allora, ehm... Aspetta, no, però lì è folletto ora che ci penso. Quindi ho fatto una boiata. Ma andiamo Felix raga, in teoria lui non dovrebbe farmi nulla. Bello Rage! Cazzo, o non farmi troppo che... Ah, ah, perché ho pensato che avesse Metal Testata? Perché c'è l'Armin Metal Testata, ok raga? Sto andando insieme con i Pokémon. Non ho... Non ho letto, ma va bene lo stesso. Minchia, che forza raga, quest'uomo. Cioè, la delusione... Dragon Claw, aia! Non ti azzardare mai più a farmi Dragon Claw che vado a piangere. Scusa? Gentilmente. Ok, grazie. Ci siamo capiti. No, perché altrimenti poi... Anfa! Eh, questo qua è un casino. Eh, ah, beh, ma io... Io c'ho Max, raga. C'ho questa potenza. Tra l'altro non vedo l'ora di trovare la camera uptite se c'è... Anch'io pirla che parlo di mega evoluzioni. Cotton Guard. Cotton Guard? Ma stai scherzando? Cotton Guard? Power Jam? Porca troia, che male! Ok, fermi, 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 fermi. Non va bene sta cosa. Sta cosa non va per nulla bene. Allora, devo... L'unico speciale che ho è Sandra, però ho come l'impressione che se la mando me la apre. O in alternativa posso rischiarmi Max. Non fare crit, non fare crit. Ok. Ok, fermi. Fermi tutti. Pozione, pozione. Probabilmente la usa anche lui, raga, però. Se la usa lui è un problema. Non usarla, non usarla, non usarla. Grandissimo Power Jam. Ok, raga, la rischio. Spero che non criti. Non critare. Non critare. Ok. Per una volta, raga. Dopo i due crit dello scorso episodio a sto giro è stato misericordioso. Il gioco è bello questo. Ferro, sì. Ripensandoci, ho fatto una stronzata. Fermi, switchiamo, raga, che io non si sa mai in sto gioco. Non si sa mai in sto gioco. Ma andiamo Cyrus, raga. Tanto a sto punto non dovrebbe essere un problema buttare giù un Ferro Seed. Andiamo di Wing Attack. In teoria con due turni. Perfetto. Ce la giochiamo così. Ok. Abbiamo vinto. Attenzione, il Coppa Alestra verrà sacrificato. Che bello. Voglio vedere, raga. Per piacere. Tra l'altro è Rocco, raga. Ok, stiamo per sacrificare Rocco Petri. Mi piace questa cosa. Ho perso, non ci credo. Sono deluso, Ist. Vorrei cambiare l'idea per farlo, ma non posso. Per salvarti, ma non posso. Ho fatto una promessa e un comandante potente mantiene le sue promesse. Mi dispiace e addio. Raga, è diventato un Solosis. È diventato un Solosis. Perfetto. Gli occhi della mia mente, vedo una regione piena di amore. È far off. È lontano. Quasi un sogno irraggiungibile. La morte è sulla via per ottenere il nostro obiettivo. Ah no, la morte sulla nostra via per ottenere l'obiettivo è una triviality. Una prova. Trival. Una sorta del genere. Un trial. Una roba del genere. Il sacrificio di Ist non è stato evano. Specialmente ora che io posso utilizzarlo per evocare Rai Quaza. Potete seguirmi to the roof. Sul tetto, se volete. Provate a fermarmi. Vi sfido a farlo. Ma siete avvertiti. Non vi risparmierò una seconda volta. Devo provarci veramente, raga? No, perché siamo a 12 minuti e mi sto facendo la cacca addosso, sinceramente. Però eviterei. Però raga, per fermare il pisellone verde, questo e altro. Cioè, c'è andata benissimo contro questo, perché comunque non era scarso. Suppongo che l'Augur sia un 5 livelli più alto, minimo. Quindi sarà al nostro livello circa. Proprio a livello di livello. Ma porco demonio, ma vaffanculo. Tu, Blizzly, l'Infermiera Joy, i rimedi, la cura, i Pokémon, Insurgence. Ah, wow, proprio addobbato per l'occasione, mi dicono. Grandissimo, Augur. Ok, raga, è nulla. Noi gestiamo, noi ci proviamo, insomma. Parliamo all'Augur. Cos'è sta roba qua, raga? È un revive, praticamente. È un bellissimo cristallo, non è vero? A parte che io mi chiedo come cazzo faccio dal tetto con sta roba qua che non si vede da terra. Però vabbè, fa niente. Non so da dove venga. È stato in possesso del primo Augur per talmente tanto tempo, da quando io riesco a ricordarmi. Ok, perfetto. Dopo un anno di ricerche, di sperimenti, non sono ancora riuscito a capire qualcosa. Dall'altra parte però, ho capito che sono un dislessico e che devo bere. All'altra parte, in ogni caso, dall'altra sponda, ho capito alcune cose molto importanti riguardo a quanto è in grado di fare questo cristallo. Ogni azione basata sulla magia, come maledire o un attacco di un Pokémon, richiede due cose. Un obiettivo e dell'energia. L'energia è la fonte di potere per l'attacco, per la maledizione. E l'obiettivo è ciò contro cui dirigi questa cosa. Per esempio, un Pokémon di tipo fuoco può essere in grado di ricoprire di fuoco, di devastare col fuoco un nemico. In ogni caso, se diminuiscono i PP, ossia la sua energia, non può farlo. In questo caso, l'obiettivo sarebbe il Pokémon utilizzante la mossa e i PP sarebbe la misura della sua energia rimasta. Ha senso? Per quanto io possa saperne, questo cristallo è un'illimitata fonte di energia. Contiene il potere di migliaia di soli, probabilmente ancora di più. It's with the incredible power the first augur was able to protect the region. È stato con questo incredibile potere che il primo augur è stato in grado di proteggere la regione e di sconfiggere culto dopo culto. Tutti dicevano che i suoi Pokémon fossero incredibilmente forti. Ciò era perché l'energia che utilizzava creava incredibili attacchi. Più o meno, raga, non sto a fare le traduzioni precise perché come ho già detto alcuni nei commenti, raga, se le faccio non finisce più il video. Ora è il mio turno di utilizzare questo grande dono per uno scopo benevolo. Utilizzerò l'anima del mio servo, East, per richiamare the mightiest, la più grande delle bestie. Vieni a me, Rayquaza, possessore dei cieli. Sarai il mio... focus non è esattamente obiettivo. Sarai il mio... la mia arma. Fate così, arma. Sarai la mia arma. Utilizzerò le tue abilità per guadagnare la mia energia infinita. Attenzione. Eh, cazzo, questo... A parte che questo era un tuono shock, però vabbè, dettagli. Attenzione, raga, è lui. È Rayquaza. Eccolo qua. Eccolo qua. La potenza di questo Pokémon, raga. Sì, però, figo, ho capito che rugisci, che sei bello. Questi non sono mai gli occhi di Rayquaza, ma va bene lo stesso. BASTA! Ah, l'ho capito! Sì, sì! Alla fine Rayquaza, finalmente siamo uniti, io e te. Insieme il mondo sarà nostro. Sarai la mia arma. Con la mia... You will harness my limitless synergy. Harness, non so cosa... Alimenterai una roba del genere. Alimenterai la mia illimitata energia. E sotto il tuo... E sotto il nostro comando. Creeremo un'utopia. Non ci sarà crimine. Non ci sarà sofferenza. Nessuna guerra. Nessuna rivoluzione. Tutto sarà perfetto. Una società pacifica. E io sarò il suo re. E per quanto riguarda te, Creepy. Devo assolutamente eliminarti. I should have dealt you. Avrei dovuto eliminarti a Telnor City. Quando ne avevo l'opportunità. Sei più di una minaccia per me. E devi es... E... E... De... Sei una minaccia... Sei tal... Sei... Calma, raga. You are more of a tree to me than you have ever begun to realize. Sei sempre stata una minaccia per me. Ancor più di quanto tu non pensassi. Se ti lasciassi andare, chi saprebbe cosa saresti in grado di fare? Chi saprebbe che tipo di problemi potresti portarmi ad avere? Non c'è spazio nel mio perfetto mondo. Per nessun insurgente. Ecco spiegato il nome del gioco. Per nessun ribelle che si oppone a me. Se stai sul mio cammino. Ti distruggerò come un agnante. Che non so cosa sia, raga. Però vabbè. Preparati. Rayquaza. Non mostrargli alcuna misericordia. Uh. Ahahahah! Gliel'ha randomizzato! Ahahah! Non ci credo! Tu sì che sei un grande figliolo! Grande! Utopia con Lunaton, raga. Tutti insieme! Già ero pronto. Minchia, ci sono rimasto di merda. Ci sono rimasto di merda. Già ero pronto a prenderlo in quel posto. Non ci credo! Il potere del cristallo ha fallito! Che cazzo era? Oh Gesù! Sei stato solo fortunato. Non farò lo stesso errore due volte. Rayquaza. Utilizza il potere del cristallo per curarti. Riportati alla massima potenza. E ripeterò l'attacco. Utilizza vento gelato ora! Aio! Questo qua è un altro culto, raga. Ehi Creepy! Ho lasciato un po' di ghiaccio qua attorno. Hai visto dove si è finito? Si dice che... Chi cazzo è, raga? Non penso sia Damien, però. È un'ottima cosa che Rayquaza sia debole al ghiaccio, vero? That one was for your lies to the Torren region. Questo era per le menzogne che hai detto alla regione di Torren. E questo è per aver cercato di uccidere il mio amico. Oddio! Sto male, raga! Sto male! Da quando Damien è un eroe? No, è il cristallo! Tu sei un pazzo! Non riesci a capire che cosa hai fatto. L'hai distrutto! Un'illimitata fonte di energia ora è in pezzi in giro per la regione. Stupido! Stupido ragazzino! Rayquaza veloce! Raccogli quei pezzi, ci servono! Eh, più o meno. Potrebbero finire nelle mani sbagliate. Damien Creepy. You have made a powerful enemy. Vi siete fatti un nemico potente quest'oggi. Cazzo, ci abbiamo contro l'Augur della regione, raga. Ci abbiamo contro l'Augur della regione. Porca Torreia. Non posso credere che fosse un traditore. Io lo guardavo come un eroe. Era il mio eroe. Ma penso che fosse solo propaganda, vero? La peggior parte è che non possiamo dire a nessuno di ciò. Nessuno ci crederebbe. So che non lo farebbero. Sai che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combattere questi culti per i cavoli nostri. Sì, forse devo farlo un po' più bello, però fa niente. Perché l'Augur sicuramente non lo farà per noi. Noi siamo forti. Abbiamo i leggendari dalla nostra parte, dopo tutto. Penso che... I think we could put it off. Penso che potremmo farcela volendo. In più c'è anche la profezia che Nora diceva l'altra volta. Ah, quasi dimenticavo. Ho trovato questo sul terreno dove vi stavate affruttando tu ed East. Cos'è? Summit Batch. Oh, giustamente. Aerial Ace. Ok, perfetto. E la miseria. East Will. L'anima di East. Una roba del genere. O il desiderio di East. Will sono tante cose, raga. Vuol dire tante cose, Will. Ok, ragazzi. Sì, però io mi immagino la gente che vede Rayquaza camminare in giro. C'è nel senso. Penso che questi siano dei frammenti del cristallo. Posso sentire il potere che emana. Questo probabilmente è un terzo. Forza, Rayquaza. Dobbiamo trovare gli altri. Mi chiedo che cosa sia questo. Aia! Questo è peso, raga. Questo è peso. Perché adesso i culti si ribaltano tra di loro. Sono sicuro che Audrey, il leader del culto abissale, sicuramente mi ricompenserà per ciò. E questo che cazzo è? Questo è il culto della perfezione. Se questo è quello che penso, probabilmente farò un ottimo uso di ciò. Wow, raga. Wow, wow, wow. Prima di concludere questo episodio, raga, visto che c'è stata solo trama e che trama, ho intenzione di fare un'ultima cosa prima di proseguire. Wow. Wow, wow, wow. Adesso i culti probabilmente entreranno in una grande battaglia. Ora, ragazzi, vi chiederete perché sono qua. Perché noi tecnicamente, a meno probabilmente, abbiamo saltato una cattura nel Black Mare. o quello stracazzo di cosa che era. Cioè, mi puzza che sia Black Mare perché c'è gente che ancora un attimo ci vive là dentro. Però va bene lo stesso. Cioè, non sapevo che... Cioè, probabilmente sono le abitazioni più abusive di sempre dopo quelle sul Vesuvio, ma vabbè. Allora, proseguiamo, raga. Dobbiamo trovare questo posto. E wow, penso che a sto punto la... Eh, sto sbagliando strada. Penso che la DDG del giorno, ragazzi, sia una roba del tipo Qual è la vostra trama preferita? Perché obiettivamente questa, raga, è stata uno spettacolo. Allora, ho imparato che devo stare sempre verso sinistra. Ok, perfetto. Infatti siamo arrivati, praticamente. Eccoci qua, perfetto. Allora, in teoria dovrebbe esserci una cattura da fare. Però non vorrei sparare una stronzata. Questa qua, qua, penso che sia a prova di cattura. Però prima dobbiamo far finire il repellente. Sennò è ovvio che non troviamo Pokémon. E nulla, wow, sono scosso. Abbiamo avuto grande fortuna contro East. E grandissima fortuna contro l'Augur. Perché, raga, stavo male. Cioè, gli ha randomizzato Rayquaza con Lunaton. Allora, vediamo se si riesce a fare una cattura qua. Forse... L'Axaria Gesù. Va bene così. Allora, io volendo avrei un amo vecchio. Però, ora che ci penso... Ma tanto, raga, fa un culo. Cioè, nel senso, è randomizzato. Che cazzo me ne frega a me. Vai, proviamo a pescare. Spero funzioni, raga. Ora non sono sicuro. Cioè, non so se si possono effettivamente catturare Pokémon qua dentro. Perché non ci ho mai provato. Fermi, voglio pescare sopra l'Axari. Mi piace sta cosa. Dai, ti prego, fammi fare sta cattura, please. No. Piango. Piango bestemmia, ti prego. Dai, fammi fare sta cattura. Dai, figa. Figa di ramarro. Dio. Fammela fare. Che vita triste. Queste tv qua abbiamo detto che non funzionano. Tu che cazzo vuoi fare? So, your custom move needs editing. What about it? Ah, ok. La custom move. Learn move. Sì. Oddio, figo. Ma, aspetta, 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 aspetta. No, raga, questa la voglio fare. È una custom move. Cioè, è una mossa che posso fare io. Oh, change type. La voglio di tipo... Acqua per il momento. Change name. Posso scegliere un nome. Oddio, raga, sto male. Posso scegliere un nome di una mossa. Non lo so. Non ne ho idea. La chiamo... La chiamo... Water... Rochette. Water... Water Rochette. Mi piace. Water Rochette. Ok, impariamo sta cazzo di mossa, insomma. Vorrei provare a insegnarla a Sandra. Vediamo un po'. Allora. Ok, è fisica. Perfetto, raga. Perfetto. 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 Ho anche reso Sandra un gran Pokémon. Perché adesso con la combinazione... Wow. Water, eccola lì. Water Rochette. Ok, ragazzi. Con questa chicca finale. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un iscrizione al canale. Fate per... Oddio. In questo episodio ho riso io più che voi, probabilmente. Ma comunque. Nulla. Rispondete anche alla domanda del giorno. Passate dai social per rimanere sempre in contatto con me. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciao. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Non riesco a stoppare la registrazione. Ma vaffanculo. Dai, c'ho il mouse scarico. Non riesco a stoppare sta merda. Dai, funziona! Eh, porco Dio. Come cazzo faccio? Oh, ce l'ho fatta. Allè.